Coach Giustino Altobelli, seconda stagione qui a Campobasso con una squadra rinnovata per metà, perché lo zoccolo duro è rimasto, però è una panchina ancora più lunga, sono arrivate giocatrici nuovi. Una nuova esperienza da poter vivere? Sicuramente è abbastanza intrigante perché comunque mettere insieme anche giocatrici che vengono da realtà diverse e anche in breve tempo non è semplice, però questa sarà la parte del lavoro che andremo a iniziare adesso. Man mano che arriveranno anche gli altri giocatrici che sono impegnati nel 3x3, mi riferisco a Trimboli e a Zembrozka, la giocatrice polacca, vedremo di mettere insieme la squadra. Sicuramente avremo, spero, una rotazione più lunga, questo anche in considerazione del fatto che quest'anno ci sarà la Coppa e giocheremo tre partite a settimana, per cui vedremo, vedremo. Sono anche molto incuriosito da questo. È vero che c'è la Coppa, è anche vero che è un campionato un po' monco perché ha 11 squadre, non so se sia un bene o un male, personalmente è un male, per me, però è altrettanto vero che il ritmo non lo si spezza, soprattutto nella prima parte di campionato, perché c'è proprio la Coppa, anche se poi porta i suoi contro, soprattutto per quanto riguarda la lunghezza delle trasferte e l'aeroporto più vicino da raggiungere è qui da Campobasso, che insomma dista quantomeno 150 km. Sì, noi dovremmo occuparci però del campo, nel senso che tutte queste considerazioni andranno fatte, però lo sapevamo all'inizio che il Campobasso non si è mai mossa da qui e quindi dobbiamo capire come mettere, o meglio, la società dovrà cercare di agevolarci in questo senso dal punto di vista dei trasferti. Sul discorso del campionato a 11 sicuramente è un male, però in questo momento non si può fare altrimenti, non ci sono società, o comunque non si sono trovate società disposte a venire su, anche dalla 2, a giocare un campionato di a 1. probabilmente le 20 partite di stagione regolare sono abbastanza poche, questo significa che su eventuali passi falsi che ovviamente cercheremo di non fare sarà difficile recuperare, quindi sarà un campionato abbastanza intenso e con poche possibilità di recupero. Questo è vero, non so se si è livellato verso l'alto, questo non lo so, perché bisognerà chiaramente vederlo in corso d'opera, certo è che per la Magnolia fare meglio dell'anno scorso non sarà semplice. No, non sarà semplice, abbiamo fatto, usando una frase un po' strana, più del massimo l'anno scorso. Si dice over performato molte volte. Sì, se possiamo utilizzare altre forme, ma la sostanza è quella, quindi non è semplice ripetersi. Noi cerchiamo di fare sicuramente il massimo, come abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo cercato di non snaturare troppo la squadra e quindi speriamo di avere una continuità, quantomeno sulla fase difensiva che è stata il nostro punto di forza. e quindi vediamo, adesso siamo proprio il primo giorno di scuola, dobbiamo un po' capire come mettere insieme le caratteristiche delle nuove insieme a quelle vecchie, ma ovviamente abbiamo già un'idea che però poi dobbiamo tramutare sul campo.